Pass giornaliero gratis per chi acquista in centro a Palermo è l'iniziativa di Confesercenti che ha stipulato una convenzione con l'AMAT per incentivare gli acquisti nei negozi dell'area ZTL. Il pass giornaliero ai titolari degli esercizi commerciali costerà solo 2,50 euro a fronte dei 5 euro. Su Repubblica o Ginedicola si legge che saranno almeno un centinaio i commercianti a beneficiare dell'accordo. I primi ticket a disposizione dei commercianti e quindi dei loro clienti saranno in circolazione già fra una settimana. Una volta entrati nell'area senza pass e acquistato qualcosa in un negozio che ricade sulla zona della ZTL si riceverà un ticket omaggio. Si avrà tempo fino alla mezzanotte per regolare la propria posizione comunicando i dati del ticket e mettersi in regola. L'idea nasce per sostenere i piccoli negozi messi in ombra dai grandi centri commerciali delle periferie che garantiscono anche migliaia di parcheggi gratuiti. Proprio sui parcheggi Confesercenti ripropone la convenzione con AMAT tra i parcheggi privati attivi nel centro storico, via Gaggini, piazzetta del Parlatoio e via Scarlatti. Lista che si allungherà e che si amplierà anche alle navette per le quali sono previsti i percorsi più lunghi. A lungo termine anche la proposta di una grande pista ciclabile bidirezionale su via Roma eliminando quella attuale di via Macheda.